Con le tenebre viene la voce, dalla finestra chiama a me. Strappo le tende, lì lì, ad aspettare dall'altra parte del vetro che mi fissa. Gabriel, perché mi perseguiti, Gabriel? E vuol sapere, forse un dì, dalla sua bocca, una melodia così fluì. Il tempo è passato ed io sono andata, ma il nostro amore, il nostro amore vivo ancora. Gabriel, perché mi perseguiti, Gabriel? Gabriel, perché mi perseguiti, il nostro amore vivo ancora. Grazie.